tic bom bom l'abbiamo detto in stereo Levante quest'oggi ospite con noi al telefono ma la cosa bella cara Claudia cara Levante che vogliamo interagire con i nostri ascoltatori e perché insomma la radio la stanno facendo loro da casa e non solo andiamo a Lecce che c'è una nostra ascoltatrice che è innamorata di te eh un nostro scusa Davide giusto ciao Davide benvenuto c'è Levante in linea cosa le puoi dire ciao Claudio oddio dai ti prego non fare l'emozionato grazie che carini madonna eh ma perché poi quando ci sentono si emozionano un sacco come stai? Come stai vivendo questa quarantena? grazie alle tue storie sto meglio eh ci diamo un po' tutti da fare perché giustamente in questi giorni eh lavoro anch'io in smart working ma soprattutto cerco di regalare dei momenti di musica eh ma a parte le mie storie cosa stai facendo? Stai studiando? Stai lavorando? come? l'emozione è tanta ovviamente deceduto così stai studiando? Stai lavorando? cosa stai facendo quando sei a casa Davide? studiando con musica bene allora Claudio vedrai che farà tante altre storie oggi pomeriggio è con noi praticamente per un'ora quindi avremo modo di parlare con lei diffusamente continua a seguire RTL cento due cinque da dove ci ascolti? Dalla radio, dalla radiovisione, dall'app Davide dalla radiovisione allora ti salutiamo anche con la ti salutiamo bravo grazie grazie continuate a chiamare zero due venticinque quindici quindici per parlare anche con Levante naturalmente è certo perché cara Claudia poi faremo parlare interagire gli ascoltatori con te perché eh abbiamo una posizione privilegiata con la radio abbiamo uno specchio del paese che è qualcosa di incredibile e la radio tiene tanta compagnia in questi momenti che sono difficili per tutti c'è giorni human adesso con love me again giorni human love me again su RTL cento due cinque nel pomeriggio del fight alle quindici venti minuti in collegamento abbiamo Levante che è a Torino giusto? Sì io sono a Torino ragazzi perché dieci giorni fa ovvero da quando ho iniziato questa sorta di isolamento eh sono tornata a casa perché pensavo di insomma passare il weekend qui e poter comporre poter stare un po' sola poi eh il il destino ha voluto che rimarresti rimanessi sola per molto più tempo perché nel frattempo sono usciti vari decreti e io non ho più potuto spostarmi da casa e allora Claudia sono tornata qui aspetta dalla Sicilia c'è Roberta pronto Claudia ciao 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 ci siamo da Palermo noi ci abbiamo conosciuto il mese sforzo al firmacopi alla Mondadori ok io io purtroppo eh guarda non me lo posso ricordare ma ho sempre preferito di tornare a casa allora nel frattempo come stai come stai trascorrendo questa quarantena ma gioco col mio compagno porto a spasso al cane ho questa fortuna restate lì torniamo tra poco con Levante e con questa nostra ascoltatrice alla Sicilia Francesco Gabbani con Viceversa su RTL cento due cinque alle quindici ventisette minuti dove c'è Levante in collegamento e non solo zero due venticinque quindici quindici nostri ascoltatori che non vedono l'ora di parlare con te di raccontarti cosa stanno facendo e di chiederti tante cose andiamo a Termoli dove c'è Sara Buon pomeriggio Sara Buon pomeriggio Ciao Sara Ciao volevo salutarti e ringraziarti tantissimo per il supporto che ci sto dando in questi giorni Grazie grazie a voi che lo comprendete eh io come dicevo ci ho messo tutta per essere eh per dare il mio contributo in qualche modo e ovviamente lo faccio attraverso la la musica e poi ovviamente in questi giorni sto anche cercando di concentrarmi a scrivere nuova musica sempre per voi e per me eh riuscirò anche in questo riuscirò anche in questo come stai passando la tua quarantena perché io poi sono curiosa di sapere al di là dello studio del dello smart working cosa cosa fate a casa ma io sto con i miei genitori e sto sto studiando diciamo che sto studiando sto recuperando un po' le cose che avevo da fare diciamo che non mi dispiace tantissimo stare a casa perché comunque è un momento per rimetterci in sesso diciamo così sì sì è vero una grande possibilità una grande possibilità perché noi è un momento di grande potenza ne sono ne sono assolutamente convinta e dobbiamo tutti avere pazienza insomma sapere che è così e così dobbiamo fare e comunque anche grazie a Levante e tanti altri artisti abbiamo l'opportunità appunto con i social anche di distrarci tu stai facendo un sacco di storie no in cui suggerisci che anche dentro casa bisogna essere belli precisi truccati giusto perché scusami ma tutti tutti svegli sai che comunque rimani a casa fino a non sai quando almeno darti una truccatina io secondo me fa bene no vedersi allo specchio e dire ok va bene non sono rimasta in pigiama mi do un andy mi do mi do un'aria perché se no è un disastro quindi io consiglio di prendersi un po' cura di ebbè non è male questo è perché lo si fa per se stessi poi non solo per gli altri allora fra poco 0 2 25 15 15 ancora le vostre telefonanze insieme a Levante intanto c'è Lizzo questa è Juice Lizzo che lo so Juice su RTL è 102 5 abbiamo noi abbiamo oltre a Levante chiaramente sempre collegata con noi anche Sharon Danoto ciao Sharon benvenuta ciao 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 come stai tutto bene sono a casa ovviamente studio perché quest'anno sono di maturità e anche con la maturità chissà come si affronterà quest'anno la maturità è tutto da vedere però voi state andando avanti con le lezioni sì sì online attraverso un'applicazione facciamo videochiamate quindi ci diamo insomma e a parte lo studio durante il giorno che cosa di cosa ti occupi allora o cucino qualcosa o le golline sì infatti ragazzi sta girando questa che è molto carino che oltre andrà tutto bene dopo questa quarantena sarà andrà tutto stretto perché ovviamente ci stiamo dando alla cucina e dunque perché poi voglio dire immaginatevi me a casa da sola no che faccio una torta di mele che se la deve mangiare la torta di mele io tutta e dunque sarò un tutta cotta io quindi sarà un disastro dopo andrà tutto stretto sicuramente e non è male faremo la riedizione volevo dirti che le tue canzoni sono meravigliose appena le ascolto alcune volte mi emoziono tantissimo grazie mille grazie sono felice di poter arrivare nelle vostre vite in qualche modo e raccontare anche un pezzetto di voi attraverso la musica grazie Sharon e grazie a tutti grazie a tutti coloro anche che stanno mandando dei messaggi al 378 378 102 5 messaggi che vedete scorrere in radiovisione per chiamare invece e parlare con Levante potete chiamare lo 02 25 15 15 beh il potere della musica come come diciamo spesso no la radio che tiene in compagnia gli artisti che che con le loro emozioni ci danno emozione ci aiutano e si dice il superfluo no però posso fare bene di tutto ma non del superfluo non toglieteci la musica in questo periodo che ci fa bene e si ritorna emma protagonista del new it qui su rtl cento due cinque questa è luci blu è il nostro new it luci blu emma su rtl cento due cinque sempre in collegamento con Levante ma siamo in collegamento anche con Trieste dove c'è Elena Elena ciao 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 un pomeriggio c'è anche Levante anche a voi io sono emozionatissima perché anche se ho quasi 60 anni io adoro Levante grazie che carina ragazza fantastica bella pena di grinta con una poesia interiore micidiale io ho cominciato ad apprezzarla quando faceva la giudice la di x factor però questo pezzo di san remo è una cosa io ogni volta che lo sento e sono vecchietta sono vecchietta ogni volta che lo sento lo metto a palla è una cosa che mi fa impazzire ma veramente grazie grazie è una cosa incredibile perché probabilmente hai toccato qualche tasto mio particolare beh sì sì chi bom bom è in realtà e cioè insomma l'ho portato a Sanremo proprio per quel motivo perché per me era veramente un brano è un brano viscerale un brano che racconta tanto di me ma che racconta anche tanto degli altri e volevo salire su quel palco con qualcosa che parlasse agli altri io poi io ascolto tutta la musica insomma sono anche diplomata in pianoforte mio padre era cantante lirico io ascolto veramente di tutto dal cioè pur avendo diciamo una certa età anche le cose nuove ma sei giovanissima si sente che sei giovanissima ti salutiamo Elena grazie 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 continuate a chiamare lo 02 25 15 15 per parlare con Levante e naturalmente continuate anche a mandare i vostri messaggi perché adesso c'è un altro messaggio importante anche oggi vi ricordiamo che è importante restare a casa e ve lo ricorda anche Casanova e se non sapete che cosa fare Casanova vi dà anche un bel consiglio cucinate ma certo che sì cucinate e non preoccupatevi come diceva prima Levante di ingrassare perché con il fornetto magico Casanova preparate dei gustosi mani caretti in modo leggero con ingredienti di stagione che ci fanno bene ad esempio frittatine di carciofi allora versi le uova sbattute carciofi tagliati nel fornetto pochi minuti e la vostra frittata sarà pronta su Casanova.com trovate tante altre ricette e potete prenotare il vostro fornetto magico che vi sarà consegnato a casa perché Casanova per noi c'è sempre anche quando il nostro modo di vivere cambia ma certo che sì allora ricordatevi zero due venticinque quindici quindici c'è Levante con noi in questa prima ora di The Flight così raccontate come state vivendo questo periodo particolare magari fate anche qualche domanda a lei però ci sentiamo tra poco everyday life call play c'era proprio Chris Martin giusto ieri che suonava al pianoforte in diretta e ci sono tantissimi artisti come la nostra amica Levante che fanno proprio queste dirette fanno le domande le cose ed è bello che sia oggi con noi qui a The Flight ci fa molto piacere eccoci sì 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 beh in qualche modo bisogna tenersi in contatto anche perché come dicevamo al di là dell'isolamento e della quarantena la vita va avanti devi andare avanti quindi anch'io lavoro da smart con come dire lo smart working in questo caso la diretta ed è anche quello un modo per rimanere in contatto con i fami non tutti possono stare a casa infatti abbiamo un nostro ascoltatore e sì Carlos dalla provincia di Venezia che è in viaggio in questo momento ciao Carlos buon pomeriggio ciao buon pomeriggio a tutti ciao Carlos ciao Levante è un piacere sentirti grazie che carino dove vai cosa stai facendo sì io sono sempre in giro anche in questo periodo qua perché faccio l'infermiere territoriale e quindi grazie grazie di cuore per quello che state facendo grazie 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 a te è infatti una soddisfazione perché amo il mio lavoro e quindi in questo periodo soprattutto così difficile è importante amare quello che si fa e aiutare il più possibile assolutamente direi che voi siete in questo momento i nostri eroi lo siete sempre ma in questo particolare momento lo siete davvero tanto e quindi grazie del vostro impegno dei sacrifici e noi quello che possiamo fare rimanere a casa e rimanere a casa evitare contatti evitare contatti in modo da alleggervi anche un po' il lavoro perché non deve essere semplice in questo momento grazie infatti la mia telefonata era appunto per chiederti di mandare un abbraccio a tutti noi che stiamo facendo del nostro meglio ma assolutamente un abbraccio enorme un grandissimo grazie davvero davvero grazie mille Carlos io mi sono emozionato approfittiamo anche della telefonata di Carlos per estendere questo saluto e questo abbraccio virtuale a tutti coloro agli operatori sanitari grazie 0 2 25 15 15 sei la mia chi è copiata eh Jay Axe insieme a Max Pezzali la mia hit e Levante lo conosce bene Jay Axe visto insomma che non molto ma tra l'altro ovviamente grazie a voi rimanendo in diretto con voi ascolto tutte queste canzoni che mi divertono molto e stavo ascoltando questo bar e pensavo è veramente una hit potente questa qui molto molto divertente davvero allora andiamo a Trieste sì ancora a Trieste perché abbiamo una nostra ascoltatrice eh sì abbiamo Luisa ciao Luisa benvenuta ciao ciao a tutti ciao Luisa ciao è una gratisola emozione sentirti veramente ma grazie ma che carina mi sembra di parlare con Elisa eh sì effettivamente l'accento è un po' come quello di Elisa da Monfalcone tra l'altro tu Luisa canti vero? comunque insomma sei anche tu sì io sono una cantautrice canto in due con mio amoroso Simone e tramite la musica cerchiamo di essere attivisti dei diritti LGBT che sono molto importanti e vedo che anche tu segui molto questo mondo assolutamente assolutamente mi è sempre stato caro è un tema a me molto caro davvero e quindi quasi in ogni disco ho raccontato eh storie che potessero in qualche modo eh difendere il diritto all'amore eh io sono sempre sono sempre pronta a farlo finché ci tratta d'amore bisogna bisogna schierarsi assolutamente sì sempre a favore dell'amore e della libertà e se voglio ascoltarci noi siamo gli Indaco e abbiamo scritto una canzone che si chiama Tonalità ma ci vuoi accennare un pezzettino Luisa? possiamo farci sì effettivamente visto che sembri Elisa dai cantaci un pezzettino cos'è cos'è? ah della canzone mia? sì allora come il blu volo tra cielo e mare come il rosso mi infuoco d'amore siamo un prato di viole sul giallo del sole nel verde speranza di un mondo migliore nel blu volo tra cielo e mare dentro il rosso mi infuoco d'amore siamo un prato di viole sul giallo del sole nel verde degli anni delle nostre tonalità brava che bello la bambiera la bambiera tutti colori assolutamente sì sì queste sono parole ignomorose e lui lo scrittore di questa canzone è assolutamente un inno alla gioia alla forza di vivere meravigliosa mi fa la musica grazie Luisa rimani là e Claudia tra poco Alfonso Levante Soretiella 125 Levante in collegamento con noi ci sono anche gli ascoltatori i tuoi fan qui siamo tornati un po' indietro ti fa tenerezza di ascoltarti mamma mia ma infatti sì sì sono passati ormai queste anni da quando è uscito Alfonso e ci sono successe un sacco di cose infatti tutte le volte che l'ascolto e l'ascolto con piacere mi fa sempre un po' di impressione perché dico wow quante cose sono capitate caspita sette anni sono passati pensa che il nostro ascoltatore Benny aveva undici anni praticamente perché ne ha diciotto Benny benvenuto ciao benvenuto grazie ciao ciao Benny ciao ciao cosa vuoi dire? come stai? da dove? ecco da dove parli? da dove ci da dove chiami? da Foggia da Foggia? sì sì ci stai seguendo dalla radio o dalla radiovisione? dall'app 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 abbiamo pure quella sono tecnologici cosa vuoi dire a Levante? ah niente volevo ringraziarla davvero tantissimo per tutta la storia che sta mettendo davvero sono sono qualcosa di incredibile comunque aiutano davvero a superare questo brutto momento grazie che carino ma io lo faccio lo faccio per voi ma lo faccio anche per me perché in maniera molto egoistica onestamente vi e me tengo compagnia quindi in realtà grazie a voi che mi seguite perché mi state tenendo davvero compagnia in questo vero e proprio isolamento ragazzi perché sola sono quindi questo è è di certo grazie davvero tantissimo grazie di cuore grazie grazie a te ciao Benny ciao ciao effettivamente Claudia in questo periodo scrivono anche che gli amanti ad esempio sono in crisi perché lo possono vedersi beh allora in ogni caso comunque che ci pensi perché le famiglie insomma le famiglie sono anche un po' messe a dura prova perché questa non è una situazione di normalità per cui ci si ritrova tutti nella stessa casa a dover convivere 24 ore su 24 non è mica semplice e allo stesso tempo anche le coppie separate eh beh sì in ogni caso è dura è dura poi sta arrivando la primavera e l'ormone infattisce ma andrà tutto bene andrà tutto bene andrà tutto bene Claudia continua a mandare a fare storie così ci aggiorni su quella che è la tua nuova normalità in quel di Torino un abbraccio grazie ancora ciao